Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Segnaliamo in FIPILITA Empoli Est e Montelupo Fiorentino code a tratti per lavori in direzione Firenze. Per lavori lo svincolo di Montelupo Fiorentino è chiuso in entrata verso Firenze e in uscita provenendo da Livorno. Segnalata code a tratti in A1 tra il BV1 variante e Badia in direzione Roma. In direzione Bologna code a tratti per traffico tra Calenzano e il BV1 variante. Sul raccordo siano a Firenze riduzioni di carreggiate in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e San Donato. Riduzioni in entrambe le carreggiate anche tra San Casciano e l'aracciamento A1 Firenze in Pluneta. Importanti provvedimenti a Firenze per quanto riguarda la sosta, il transito e la mobilità in occasione di eventi culturali in zona via Baracca, Cascine e piazzale Vittorio Veneto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!